Per il recupero della 25esima giornata all'Alditella, il Vasso Girardi ospita il Pineto. Mister Prosperi schiera guida in appoggio ad Alagia. Pineto allenato da Mister Amaolo che risponde con Rea dietro il duo Romano-Galeano. Abde Signor Marco Russo tra sezione di Torre Annunziata. Dopo i primi dieci minuti di studio si arriva al quattordicesimo. Assist perfetto con l'esterno di Minincleri per il colpo di testa di Romano in controtempo 0-1 ospite. Nulla da fare per di Stasio, minuto 24 risponde il Vasso Girardi. Contropiede ben orchestrato da Alagia, larga per guida ma il dieci di casa caccia di punta e palla altissima sopra la traversa. Passo un minuto, brividi per il Vasso Girardi, sinistro a giro di poco alto di Della Quercia. Minuto 33 annullato questo gol a Domizzi per fuorigioco, ben servito da Barlafante. Il dubbio rimane. Trentasesimo, grandesto di Race che sibila il palo. Passo un minuto, Alagia pareggia i conti, bravo in aria a trovare il corridoio giusto per bucare Marco Relli. E l'ultima emozione del primo tempo, 1-1. Con le mangi da Alberto Petrutti passiamo alla ripresa. Secondo tempo Kenisa sulla falsa riga del primo, con le squadre che giocano molto a centrocampo con le occasioni da rete rarissime. Il primo tiro in porta arriva allo ventinovesimo ed è di Delpineto. Barlafante dialoga bene con il neentrato del masso sinistro di quest'ultimo fuori. Alla testa di Distasio, un minuto 33, piazzato di Minincleri, sinistro a giro che termina di pochissimo alto dopo la traversa. Partita che scorre senza sussulti dopo quattro minuti di recupero. Russo fischia la fina e 1-1 tra Vasto Girardi e Pineto. Risultato giusto. Alto Molisani che staggono a quota 40 punti e si preparano al tour de force delle prossime partite. Domenica trasferta a Montegiorgio, poi mercoledì 4 al Ditella arriva la capolistare canatese. Sì, visto che è la terza partita di una settimana per entrambe le squadre, sicuramente penso che la gente si sia divertita. Una bella partita, giocata a viso aperto, entrambe le squadre hanno provato a vincere, con buona geometria di gioco, tante situazioni favorevoli, tanti episodi che poteva decidere la partita in un modo o nell'altro. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, una squadra molto giovane, e stiamo conmando qualche carenza di qualche giocatore esperto con l'entusiasmo dei giovani. Siamo soddisfatti di questo e non era facile venire qui a giocarsi la partita a viso aperto col Vasto Girardi, che sappiamo la propria forza sul proprio terreno. È una squadra organizzata che gioca un buon calcio. La prestazione mi soddisfa e l'episodio poteva decidere la gara a nostro favore quando c'è stato un altro gol. Adesso non sta a me decidere, dalla panchina non l'ho visto, quindi è un episodio come tanti capitano la domenica, però tante volte possono incidere sul risultato finale. Io lo considero mezzo pieno perché siamo andati svantaggio su un gran gol loro e su un piccolo errore perché abbiamo giocato una palla troppo veloce. Poi siamo stati bravi a rimanere in partita, poi potremmo fare anche il secondo gol, però abbiamo trovato una squadra valida, quindi è un buon punto, potevamo vincere, potevamo perdere, quindi ci prendiamo il punto, andiamo avanti perché il percorso è lungo ancora.